Ieri al Tagliamento sono aperte le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado Tito Livio ad indirizzo musicale, una novità davvero importante non solo per il Veneto orientale ma anche per il Friuli Venezia Giulia. Sentiamo la stessa dirigente. Scuola aperta, queste giornate importanti per scoprire l'offerta anche di questo istituto comprensivo, Tito Livio e San Michele al Tagliamento, ne parliamo proprio con il dirigente scolastico. Quali sono allora le caratteristiche principali da scoprire? Nel corso di quest'anno abbiamo una significativa novità all'interno dell'offerta formativa del nostro istituto che è per la scuola secondaria di primo grado l'indirizzo musicale. Quindi abbiamo una sezione indirizzo musicale dove gli alunni oltre a studiare le materie curricolari e inglese e tedesco studiano a scelta uno tra questi quattro strumenti. La tromba, le percussioni, il flauto traverso o il pianoforte. L'orario scolastico è di 32 ore di cui una dedicata allo studio del solfeggio e musica d'insieme e un'ora di studio individuale di strumento. Gli insegnanti sono insegnanti nominati dal ministero, laureati al conservatorio, che seguono i nostri alunni nella formazione musicale. Il ministero ha avviato i corsi ad indirizzo musicale perché lo studio della musica, oltre a dare ai ragazzi la conoscenza di uno strumento musicale, la capacità di lettura della musica, sviluppare in loro capacità estetiche significative che poi le accompagneranno nel corso della loro vita, La musica, come dicevo, sviluppa nei ragazzi anche altre abilità. È dimostrato che chi studia musica migliora la propria concentrazione, migliora le proprie capacità percettive, le capacità di coordinamento e dà ai ragazzi una forte motivazione anche verso lo studio. Noi vediamo i nostri ragazzi studiare con entusiasmo uno strumento musicale. Poi un grande spazio è dato all'interno del corso anche all'attività di musica d'insieme. Quindi i ragazzi imparano a suonare insieme. Suonare insieme significa ascoltarsi, ascoltare l'altro, rispettarsi, avere un obiettivo comune, collaborare per la riuscita del gruppo, per la realizzazione di un evento musicale. Questo migliora sicuramente anche quello che è lo star bene all'interno della classe. Durante il corso dell'anno i ragazzi si esibiscono e anche esibirsi è per loro un momento molto significativo. Imparano a controllare la loro emotività, imparano a superare anche la timidezza e acquisiscono sicuramente una grande sicurezza in se stessi. La scuola poi è inserita in un circuito di scuola di indirizzo musicale per cui i nostri ragazzi parteciperanno anche a degli eventi musicali a livello provinciale.